Gloria Merli dispone sul tavolo il suo lavoro, il frutto della sua fatica. Sono guanti, sciarpe, cuffie, pantofole di lana, un materiale allevato, raccolto e lavorato nell'azienda che gestisce insieme alla madre. Due donne alla guida di una realtà unica nella nostra provincia. In un'azienda a Marano, di ziano infatti, oltre a coltivare la vite, si allevano alpaca, mammiferi della famiglia dei camelidi originari del Sud America, con cui si produce la famosa lana soffice e analergica. Un angolo di paradiso minacciato da una burocrazia ed una retratezza amministrativa lenta e complicata. Al momento in Italia la problematica dell'alpaca sul territorio italiano è che non è riconosciuto come animale da reddito a livello nazionale. Per cui che cosa vuol dire? Che non viene contemplato come un animale di allevamento tradizionale come potrebbe essere un ovino, un bovino. In alcune regioni però italiane, come la Toscana, le Marche, l'Abruzzo e credo anche la Lombardia, ci sono dei riconoscimenti pseudo regionali che valgono solo per quella determinata regione in cui l'alpaca viene contemplato nelle tabelle degli allevamenti, solitamente come allevamento minore. Per cui in quel caso chi fruisce di questo termine all'interno di quella regione riesce ad ottenere anche dei contributi per il PSR, mentre noi in Regione Emilia-Romagna no. Come vedi il tuo futuro? Io spero che ci sia un riconoscimento a livello nazionale, non tanto per gli allevatori ma soprattutto per gli animali, perché hanno bisogno di essere regolamentati sotto l'aspetto sanitario per tutti i controlli che necessitano, i trasporti e per cercare anche di avere un buono grado di salute e quindi anche le malattie di tipo infettivo siano schermate. Nonostante le difficoltà, le due donne tengono duro, non vogliono mollare quell'attività che le fa alzare con un sorriso sulle labbra ogni mattina per accudire gli otto animali affettuosi, sensibili e calmi. Un'alpaca è un animale che comunque, date le sue origini nelle Andi in Peru, è un animale forte, però è un animale che soffre fortemente lo stress, quindi questo tipo di animali hanno bisogno di attenzioni. Sono animali che devono essere acquistati per l'allevamento soprattutto e vivono in greggie, quindi quando si decide di intraprendere una carriera di questo tipo bisogna acquistare almeno due capi. A livello umano quando hai animali che nascono da te il rapporto umano sicuramente è migliore perché loro sono abituati fin dai primi giorni di vita a relazionarsi con te. Quando arrivano da altre situazioni allevatoriali dove magari arrivano dall'estero, vengono importati o anche semplicemente in un altro allevamento italiano, il processo per far sì che loro si fidano di te è un pochino più lungo, però sicuramente quando imparano a fidarsi è meraviglioso.